Agenti della polizia stradale in prima linea per contrastare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera in provincia di Ragusa. I controlli effettuati principalmente tra sabato e domenica mattina fra Ragusa e Marina di Ragusa hanno permesso di denunciare sei persone per reati vari e di trovare positivi ad alcol test ben sette automobilisti. Al TIC e al volante si sono rivelati un comisano di 19 anni neopatentato, tasso pari a 0,69, un ragusano di 24 anni, tasso alcolemico 0,55, uno ciclitano 18enne, tasso 0,39 ed una ragusana, 19 anni, con un tasso pari a 0,78. Sono stati invece denunciati alla procura di Ragusa per guida in stato di ebrezza un ragusano di 29 anni trovato con un tasso pari a 1,19, oltre 0,80 diventa sanzione penale, un catanese di 33 anni trovato con un tasso pari a 0,98 e un già ratanese di 45 anni che aveva un tasso alcolemico pari a 1,03. Per guida, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, è stato invece denunciato un modicano, 23 anni, che durante un posto di controllo effettuato a Modica, alla vista degli agenti aveva cambiato direzione di marcia e aveva tentato di confondersi tra gli avventori di un bar vicino. Infine sono stati segnalati due rumani di 36 e 27 anni controllati a Chiera Montegulfi, il primo per guida senza patente, il secondo per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità.